Ciao a tutti e bentornati su Flash Trend Ita. Come state? Oggi parliamo del Suzuki Music Party, l'evento musicale che segna una nuova sfida per Amadeus e che promette di essere una vera e propria festa della musica. Non chiamatelo Sanremo perché c'è molto di più. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Amadeus è tornato e questa volta con una grande novità, il Suzuki Music Party, un evento musicale che debutta sul canale 9 e che ha già fatto parlare di sé. Lo hanno definito il piccolo Sanremo, ma Amadeus ha subito precisato. Non chiamatelo Sanremo, è una festa della musica. E con oltre 20 cantanti e 15 hit inedite, non c'è dubbio che sarà una serata imperdibile. L'evento, registrato all'Alliance Cloud di Milano, ha visto esibirsi artisti di spicco come Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Achille Lauro, Paola e Chiara e tanti altri. Una line-up da sogno per gli amanti della musica, con duetti inediti e performance uniche. Tra i momenti più emozionanti c'è stata l'esibizione di Ornella Vanoni, che ha celebrato i suoi 90 anni con un messaggio toccante. Finché sono viva, canto. Il Suzuki Music Party è molto più di un semplice concerto. È una maratona musicale di oltre 4 ore, con interviste, momenti di riflessione e tanta emozione. Il tutto è stato reso ancora più speciale dalla presenza di Ilenia Pastorelli e del DJ Massimo Alberti accanto ad Amadeus. Ehi, ricordati di iscriverti per non perderti i prossimi video. Ma non è tutto. Tra le hit che hanno già conquistato il pubblico c'è Apnea di Emma e il nuovo brano di Achille Lauro, una ballata d'amore intensa. Paola e Chiara, insieme a Big Mama, hanno creato un trio che ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone dell'autunno. Cosa ne pensate di questo nuovo format? Pensate che potrebbe diventare un appuntamento fisso nel panorama musicale italiano? Lasciate un commento per farci sapere la vostra opinione. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Un abbraccio e ci vediamo presto con nuove storie interessanti qui su Flash Trend Ita. Ciao e a presto!